A sette anni dal crollo per una frana il muro di via Montebello in zona San Martino a Chieti è stato finalmente ripristinato dopo pericolo di crollo per numerosi anni. Un intervento che è stato richiesto fortemente dai cittadini perché creava veramente grande disagio. Sì, era l'emblema del delgado in questo quartiere molto importante e popoloso della città. San Martino una scommessa vinta, un impegno preso precisamente nel pieno della campagna elettorale. Tutti si lamentavano di questo scandalo, di questo degrado a cielo aperto, ma non solo, di una pericolosità evidente che c'era sia per la viabilità e sia per la terra che continuava a franare. Sopra questo muro ceduto, ormai voglio ricordarlo, da sette anni, bene noi immediatamente appena insediati abbiamo rilevato la pericolosità e quindi la somma urgenza dell'intervento. Peraltro un intervento d'urgenza reso possibile grazie alle risorse reperite dall'amministrazione non appartenenti ai finanziamenti dei giochi del Mediterraneo. Finanziamento peraltro più volte modificato e ancora in fase di approvazione dopo le prescrizioni fatte dall'ANAS. Peraltro esattamente non abbiamo neanche aspettato i fondi legati a un vecchio finanziamento del 2009 che stava andando in perenzione grazie all'assessore Rispoli, alla sua pervicacia, al suo impegno lo abbiamo recuperato e quindi ci sarà anche un intervento qui con una rampa che collegherà il quartiere di San Martino con lo scorrimento veloce, ma noi non abbiamo neanche aspettato questo intervento nonostante fosse previsto il ripristino del muro ma siamo intervenuti con fondi nostri proprio per mantenere fede all'impegno preso e soprattutto per una questione di emergenza e di sicurezza per la zona e per i residenti. E siamo proprio qui in via Montello, approfittiamo del passaggio di un cittadino per chiedere cosa ne pensi adesso di questi lavori. Ma io penso che dopo sette anni che il muro era caduto mi sembra doveroso ringraziare l'amministrazione, anche se io non voto e non sono di nessuno schieramento politico, posso dire solo che è largo ai giovani, è largo a chi si dà da fare, a Chieti, soprattutto a San Martino perché San Martino è una zona molto lasciata allo sbaraglio, diciamo così, alle strade e tutto insomma, quindi ringrazio l'amministrazione.